Estate 2005, riavvolgiamo il nastro perché c'era da ricostruire nel Pescara, dalle cenere in una retrocessione dolorosa, quanto immeritata, a mio avviso, allenatore Gianni Simonelli, pensate a Maurizio Sarri, ma c'è lo zampino di tuo fratello. Io chiesi a mio fratello la squadra che nel suo girone l'aveva impressionata e lui mi disse che l'unica squadra era la San Giovannese, gli sembrava molto ben organizzata, che sapeva cosa fare in campo e lui ha sofferto molto in quelle due partite e mi disse che era Maurizio Sarri. Poi, quando poi le cose devono andare bene, il direttore della San Giovannese era un mio ex giocatore della San Benettese, Bignone, ci siamo incontrati, venne a Pescara, ci siamo incontrati e mi disse che lui aveva un gruppo di lavoro eccezionale, a cominciare dall'allenatore, il secondo preparatore atletico, preparatore dei portieri e un nutrizionista. Mi disse perché non ci prendi a tutti quanti? Una parola. Parlai col presidente e mi disse se ti senti di fare questo, fallo. Approfondi i colloqui, anche con Sarri, e decisi, anche se non sapevo ancora cosa andavo incontro, e prendemmo tutto il gruppo. Gran parte del merito. Lo Zampino, come abbiamo detto precedentemente, e Divo Iaconi, che allenava il Pisa, lo ricordiamo, mentre Sarri aveva vinto l'anno precedente il campionato con la San Giovannese in C2 e fece molto bene in C1 alla guida della squadra toscana. Arriva Sarri, un bel campionato, tra l'altro una squadra rinnovata. Quel Pescara riuscì a centrare aritmeticamente la salvezza con tre turni d'anticipo. Ricordo ancora la vittoria col Cesena. È chiaro che Sarri è cambiato molto. Il primo Sarri giocava in un modo, poi c'è stata una trasformazione clamorosa. Sì, secondo me la trasformazione è stata ad Empoli. Poi lui non... io gli riproposi verso aprile, mi pare. Eravamo a cena a Francavilla. I riproposi il contratto e lui mi prese tempo. E gli ho detto, vabbè, posso aspettare un'altra quindici giorni, poi devo pensare a un altro allenatore. Quindi sbrigati. L'aveva chiamato il Livorno, che era in A, Spinelli. Passarono quindici giorni e io senza dirgli niente ho preso l'altra allenatore. Dopo qualche giorno mi chiamò, mi disse dai incontriamoci. Guarda, mi sento che ci incontriamo perché ho già preso l'allenatore. Quindi, ma dai non scherzare. No, non scherzo. Ci siamo sempre detti le cose in faccia. Ballardini era. Sì, Ballardini. E quindi prendemmo Ballardini e poi lui... E lui andò ad Arezzo, ricordo, ad Arezzo sostitui Conte. Sostitui Conte, sì. Sostitui Conte, fu esonerato, successivamente lo stesso Sarri. Ho avuto altri problemi di esonero prima e dopo, dopo Pescara. Stagione 2005-2006, qualche aneddoto. Ne hai uno in particolare che ti piace così rivelare a distanza di tanti anni? Io non è che ricordo tanto, non ho molta memoria. Però, per esempio, io ho preso i Matteini come punta importante in Serie B e non lo faceva giocare mai. arriviamo alla partita con la Triestina in casa a Pescara, vincemmo 5-0, mi pare. 5-1, 4 gol di Matteini. E fece 4 gol di Matteini. Entrando dalla panchina. Entrando dalla panchina. Al posto di Camarani. Bravo. Il martedì loro si stavano allenando, io mi misi a vedere l'allenamento. Finito l'allenamento, lui viene da me e dice ma non mi devi dire niente. E ho detto no, che ti devo dire? Abbiamo 5-1, siamo andando bene. Che ti devo dire? E ci fu un po' di silenzio. Prima che andassi via, mi disse, hai visto Matteini? Sì, io l'ho visto, tu l'hai visto. Bellissimo. Ed è fidale. Perfidale. Mi siete fatto una risata. Eh sì, tutte e due. Però Sarri aveva un vizio, quello di fumare. E lì un altro aneddoto importante, perché il quarto giorno, terzo o quarto giorno di ritiro andai in ritiro, non c'ero mai stato, e lui era nel cerchio di centrocampo con i suoi collaboratori che parlava e fumava. La squadra faceva il torello sull'angolo dello staglietto e allora mi avvicinai piano piano. Sai quando Te Sannebbia l'ha visto, perché non avevo mai visto un allenatore allenare e fumare. Poi c'era anche gente di Pescara a vedere i tifosi. Cioè non era una bellissima immagine. Lui aveva di fronte la tribuna con i tifosi, io andando verso di lui li avevo alle spalle. Mi avvicinai, feci allontanare i collaboratori e gli disse, piano piano, senza farti accorgere, prendi sto pacchetto di sigarette, l'accendino e piano piano spegni la sigaretta, valla la panchina e io ho detto, ma questo mi reagisce. Invece non disse niente e lo fece e tornammo a centrocampo facendo finta di niente. E gli ho detto, oh, ma come stai a San Giovanni e Valdano? Ma che stai in promozione o a San Sovino? E gli ho detto, questo è l'analogo, scari in serie B, ci stanno le televisioni, ci stanno le cose. E gli ho detto, ma io non ho mai visto un lato a fumare in mezzo al campo mentre si allena. E lui non disse niente. Un'altra aneddota se proprio vogliamo dire tutta. Appena arrivato, chiamò i giocatori, li voleva far dipingere le scarpe tutte di nero. Già lui si vestiva per scaravanzia e a me già non mi andava bene. Ma comunque, io ho detto, ma questi prendono i soldi dagli sponsor, ricordo che fai dipingere. Ma quando stai in promozione? Insomma, c'è stata tutta una serie, aveva la mentalità ancora, chiaramente, da dilettante. E piano piano poi però è cresciuto. Ma lui al di là di queste cose, dal carattere un po' scontroso, lui... Secondo me è cambiato nel corso degli anni. Secondo me sì, e poi si è migliorato, perché lui pensa 24 ore alla squadra, non c'è famiglia, non c'è niente. C'è solo la squadra per tutto il tempo che allena la squadra e lui cura tutti i particolari. È arrivato tardi nel calcio che conta, però adesso sta bruciando le tappe e secondo me, come lo conosco io, per la persona schietta e leale che è, merita tutto questo. Dici bene, ha bruciato davvero le tappe in poco tempo, perché ci sono stati dei passaggi a vuoto, ma è normale che sia così nel percorso di un allenatore. Un nuovo incrocio, l'hai raccontato a Grosseto, in sostituzione di Gustinetti, era la stagione 2009-2010. Di un soffio il Grosseto non c'entra i play-off. L'anno successivo accetta il progetto ambizioso dell'Alessandria, ottimo risultato, semifinale play-off. L'anno successivo, e stiamo parlando del 2011-2012, viene ingaggiato Sarri dal Sorrento, sempre in C1. Il 14 dicembre del 2011 viene esonerato, la squadra è al sesto posto, partita con una penalizzazione di due punti. Stagione 2012-2013, Andrea Iaconi è DS del Brescia e Sarri viene ingaggiato dall'Empoli. Vigilia della trasferta di Lanciano, era ad un passo dall'esonero. Sarri, 4 punti, 9 partite, l'Empoli vince 3-0 e comincia una clamorosa rimonta che porterà l'Empoli alla finale play-off, persa poi col divorno di Davide Nicola. E poi lo vinse, vinse il campionato con l'Empoli, vincendo anche a Pescara 2-1 a dicembre. Come cambiano le cose dall'oggi al domani in poco tempo? Eh sì, da lì, poi ad Empoli probabilmente è stata la squadra che lui ha fatto giocare meglio. Quindi da lì si è evoluto, poi il Napoli, e comunque ha avuto delle coincidenze molto favorevoli, come capita a tanti, che gli ha dato la spinta ad arrivare dove merita. L'idea di calcio di Sarri è cambiata nel tempo. Il primo Sarri, quello di Pescara, stagione 2005-2006, era un Pescara completamente diverso da quello attuale. Ricordo che la palla era sempre in aria, come si dice, in gergo. Sponda di Bonfiglio, tiro di Matteinio, di Cammarata, era questo il tipo di tiro. Lui, la squadra sapeva cosa fare in campo, già da noi. Come organizzazione. Non era bella da vedere come adesso, come è stato il Napoli, come è stato l'Empoli. Quindi lui probabilmente, attraverso i suoi studi, la sua abnegazione al lavoro, è riuscito a migliorarsi. Ti dico l'ultima, stavamo parlando del più e del meno, lui mi disse, un giorno mi disse, lo vedi? Io la penso così, per esempio tra Tognozzi e Pizzarro, Pizzarro della Roma. E come no? Cileno. E cileno, bravo. Io faccio giocare sempre Tognozzi. E gli disse, vabbè, ma non è mio che te ne torni a Sanzovino a allena a Sanzovino. Era da ridere, eh. E lui per dire, per le mie idee, cioè Tognozzi fa quello che dico io, Pizzarro magari non lo fa. E lui, la sua caratteristica, secondo me a volte negativa, poteva essere questa. Probabilmente è migliorato. Privileggiava il giocatore che metro per metro faceva quello che diceva lui. Quindi anche se uno era fortissimo e di qualità, se non faceva quello che diceva lui, non giocava. Quindi invece adesso probabilmente ha messo insieme un po' le due caratteristiche. Fatto una sintesi, diciamo. Fatto una delle due caratteristiche. Naturalmente è più elastica. Adesso vuole anche i giocatori di qualità, quindi è cambiato. A proposito di allenatori, c'è una classificazione di Andrea Iaconi. Allenatori normali nella media e allenatori top. Quali sono quelli normali in generale e quali top? Io quando parlo di allenatori top parlo di, secondo il mio punto di vista, chiaramente, che può anche non valere niente, ma di allenatori, parlo di allenatori che hanno talento. Perché un conto è avere talento, un conto è che sai allenare. Gli altri, il 90% degli allenatori sono, secondo il mio punto di vista, allenatori normali. Poi uno è bravo ad allenare e magari non capisce quasi niente dei giocatori o viceversa. Chi includiamo tra i top? I top Allegri è il talento, cioè il talento di Galeone, il talento di Catuzzi a Pescara, che parliamo del Pescara. Zeman anche, sì? Come no? E tutta gente che ha fatto storia. Perché hanno i guardiola a talento. Klopp ha talento. Poi ci stanno gli altri allenatori che sono bravi. Sarri ha talento? Sarri non ha il talento dell'allenatore, però Sarri è bravissimo perché sa allenare sul campo. Giampaolo è bravissimo perché sa allenare sul campo. Di Francesco è bravissimo perché sa allenare. Capito? E poi ci stanno quelli che sono normali. C'è un collaboratore aquilano, ex calciatore, Marco Ianni, che lavora con Sarri a diverse stagioni, dai tempi del Napoli. E quindi ha alzato anche lui il trofeo l'altra settimana col cerco. Sarri gli disse di fare un colloquio con questo ragazzo. Conosco bene i genitori che hanno casa Giulianova. Sarri ci parlò, lo prese subito. Ed è bravo. Sarri lo senti ancora? L'altro giorno. Io ho mandato un messaggio di congratulazioni per aver vinto. finalmente non sei l'eterno secondo. E quindi hai vinto, mi devo stare zitto. E lui mi ha risposto salutando tutta la famiglia. Ti faccio una domanda sul Pescara, perché è importante. Il Pescara ha centrato la semifinale play-off. Secondo te, dopo la vittoria del Verona che ha meritato nella doppia finale con la Cittadella, aumentano i rimpianti? Ma guarda, io a volte sento anche le vostre trasmissioni. Secondo me... E cambi canale. Il Pescara a Pescara... Dovrei. Bellissimo. Però non è come dicevate all'inizio, o forse come diceva qualcuno in società, che doveva lottare per la salvezza. Il Pescara loro hanno costruito, secondo il mio punto di vista, una buona squadra. Ma non è Celsa. Non è Celsa, ma una buona squadra, come ce ne sono tante in Serie B. Certo, il Verona ha l'organico migliore, il Benevento ha l'organico di numero e anche un po' di qualità. Però il Pescara durante il campionato si è evoluto, è migliorato, quindi attraverso magari il lavoro, è migliorato e è diventato come gli altri, se non meglio a volte. in periodi di campionato è stato anche meglio del Verona, del Benevento e di altre squadre. Io quando è arrivata la semifinale, io ero convinto che il Pescara ce la potesse fare. Poi sai, poi esistono i dettagli che ti portano a cambiare il risultato. Hanno fatto la differenza. Però il Pescara... Per esempio, si è parlato tanto, Andrea scusa se ti interrompo, della sostituzione, l'ingresso di Campagnaro, il luogo di Sottini. Ma queste sono tutte le cose che fai, perché hai preso gol. Se facevi gol l'allenatore era bravo, ma io non ho mai valutato gli allenatori per queste piccole cose, che poi possono essere anche grandi cose, perché vinci la partita e quindi il Pescara è stato penalizzato da questa sostituzione. Ma puoi parlare quando vuoi, ma devi analizzare la situazione sulle 38 partite. E cosa vuoi dire al Pescara? Il Pescara ha fatto un grandissimo campionato, secondo me. Non era scarsa, come dicevano. Era una buona squadra che ha fatto un ottimo campionato. Quindi, secondo me, tanto di cappello a chi ha lavorato sia in società che è sul campo. È una scommessa, Zauri? Ma guarda, a me, io ho fatto 39 anni di calcio facendo sempre scommesse. Quindi trovi la porta aperta. Io ho preso sempre gli allenatori che venivano dalla C. E la maggior parte sono andati tutti in A. Molti di loro sono andati in A. Anche nell'era di Sebastiani adesso, Oddo, di Francesco. Quindi sono tutti... Perché Zauri, no? Non lo so. Non posso esprimere giudizi né sulla persona né sul tecnico perché non lo conosco. Però perché no? Pescara ha questa caratteristica di lanciare i giovani allenatori. A proposito sempre di allenatori, insomma, in Serie A ci sono allenatori che o hanno giocato da ex calciatori a Pescara o hanno allenato a Pescara. Insomma, citiamo i vari di Francesco, Allegri, Giampaolo, lo stesso Sarri. Sì. Ne sono quattro di un certo livello. Una volta c'era De Cagno in Serie A, all'Udinese, un'altra volta c'era Rossi dove era la Fiorentina. Quindi c'è sempre. E queste sono tutte persone, la maggior parte, che venivano dalla C, dalla Lega Pro, di adesso. Quindi è una caratteristica. E' bello vedere tutte queste persone che sono passate per Pescara. Io, per quello che mi riguarda, sono molto orgoglioso. Alcuni di questi a maggior ragione perché sono abruzzesi. Dovrebbero essere orgogliosi anche i dirigenti di adesso. Tu ormai sei proprio in pensione. Eh? Sì. Programmata. 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 Programmata è bello. Bello, cioè significa che già avevi pianificato tutto. Sì, sì. Sì, che ha, eh, dissi al presidente, il presidente fece cinque anni di contratto. C'è Corioni. Corioni, sì. Eh, e dissi che alla fine del contratto avrei smesso. Poi invece ho dovuto, eh, un anno, un anno, sei mesi, ho dovuto, eh, andar via da Brescia perché ha venduto la società. Eh, litigai subito con i nuovi proprietari. e quindi eh, ho accelerato un po' di sei mesi l'uscita. Potresti tornare però nel lagone. C'è il pressing fortissimo, direi, è convinto di Iachini se dovesse prendere il teramo come sembra. Abbiamo letto sul giornale. Non, vabbè, ma non... Che smintisci quindi. Allora, l'unica cosa in un gruppo di lavoro se qualcuno si dovesse ricordare di me potrei stare nel gruppo di lavoro. Quindi anche Iachini. Io sto parlando in generale, fammi finire, però devono essere persone, non ho più voglia di stare a parlare con i giocatori, i presidenti, convincere il presidente a fare una cosa, convincere il procuratore a fare un'altra cosa. C'è una sorta di supervisione. Il nostro lavoro è molto delicato. Noi amministriamo i soldi degli altri. Allora, se sei una persona onesta e hai degli ideali come penso di avere, devi essere serio e quindi devi sempre cercare comunque di far dormire la notte il presidente perché il momento in cui il presidente deve tirar fuori sempre soldi vuol dire che il direttore non è bravo. Allora, c'è chi se ne frega che non se ne frega niente e c'è chi invece se ne frega e io sono uno di quelli e quindi mi sento uno sconfitto, un perdente se dovessi fare del male alla mia società ma non del male perché sei cattivo perché non hai le capacità e allora come si fa tu sei un uomo di campo sei stato sempre un uomo di campo come si fa un uomo di campo che poi va a riguardare la parte economica perché poi parliamoci chiaro i soldi fanno andare l'acqua di qua e di là come si dice da noi e quindi tu devi salvaguardare comunque la proprietà e quindi noi dobbiamo essere così i miei colleghi dovrebbero tutti quanti essere così quindi questo è un messaggio neanche tanto cifrato a Iachini come dovrebbe essere lo Stato che c'entra io Iachini a parte che non lo conosco ma cosa risponderai a Iachini? quello che ho detto a te come fa a tornarmi la voglia però io potrei stare solo con persone sempre con un gruppo di lavoro non da solo più perché non puoi più gestire il direttore da solo non può far niente devi avere collaboratori bravi allora con persone serie che hanno ambizione e che fanno le cose per bene potrei anche pensarci però comincio già a avere 66 anni cioè quando mi volete lavorare? giovanissimo conta la testa l'ha detto anche Zemano oggi in un'intervista si bravo hai ragione Zemano conta la testa e io non è che ce l'ho tanta ha ha